Io vi ho trovato un'interaio che ha avuto la santa, perché mi ha fatto il secco, e mi ha fatto il secco e il secco di amico. Ovviamente, a un po' è che si è andata, ma, a un secco di soli, e mi ha detto, ah, come è che la persona può dire ciò che è? Non è la zona proprio, io ho la mia, io ho la mia, ma anche i miei suoi, non so, ma è che la mia, ma è che la mia, grazie a tutti grazie a tutti